Antonio Pisani, il Comune di Casamicciola avrà un nuovo progetto per quanto riguarda le scuole e si introdurrà la storia del Comune. Sì, abbiamo pensato a due date per i ragazzi del ciclo secondario e le ultime classi, perché parleremo del Comune di Casamicciola visto in una prospettiva storica grazie alla collaborazione con la fondazione Premio Ischia e nella persona di Benedetto Valentino che si è reso generosamente disponibile a offrire ai ragazzi due momenti che avranno il focus sulla storia di Casamicciola a partire dal fine 1800 in avanti. Sì, infatti il primo documento dell'emeroteca è proprio un articolo su un giornale che parla del terremoto del 1883. Sì, addirittura abbiamo trovato una citazione del Times di quegli anni, ma sarà anche un'occasione per chiamare i ragazzi a un impegno rivolto più all'educazione civica anche, quindi avvicinare i ragazzi alle istituzioni, farli partecipare alla vita civica della comunità. Infatti saranno ospitati proprio nella sala del Consiglio Comunale che per la circostanza sarà allestita in modo tale da accoglierli, numerosi, abbastanza, quindi speriamo di entrarci tutti e sarà un modo per far capire anche ai ragazzi il luogo dove si svolge la politica nell'ente che è più prossimo, cioè quello comunale. Quali istituti verranno coinvolti? Saranno coinvolte le terze classi del ciclo secondario, proprio perché loro trattano questo periodo storico, ovviamente grazie alla collaborazione anche dei dirigenti e dei professori dell'Istituto Comprensivo, con cui abbiamo concordato le modalità e i temi. Dare ai ragazzi un link con l'appartenenza alla comunità, il senso di appartenenza a una comunità così forte come quella di Casamicciola. Noi non nasconderemo che Casamicciola in quel periodo ha iniziato ad attraversare un periodo di difficoltà dettato dalle catastrofi, ma i ragazzi sono tanto attenti a queste cose, quindi partiremo proprio da questo e sfrutteremo questo momento anche come un momento di educazione civica, come si vivono questi momenti, quale accortenze bisogna avere, quale rispetto per il territorio bisogna avere, la consapevolezza di vivere su un territorio fragile, al contempo bellissimo, e quindi credo che i ragazzi sono tanto sensibili, che poi colgono queste cose, e poi ci sarà una seconda puntata rivolta al positivo, cioè a Casamicciola vista come esempio di resilienza, una comunità che ha sempre avuto in sé la forza di riprendersi, di ricominciare e di arrivare anche alla prosperità dei tempi contemporanei. Benedetto Valentino, la storia di Casamicciola fra i banchi di scuola si è partiti dal primo terremoto. Sì, è stato un brevissimo discorso su quello che è la parte, diciamo così, dei terremoti storici di Casamicciola, e la prossima volta invece parleremo delle cose belle di Casamicciola, cioè di quello che è il turismo, i grandi esponenti del Grand Tour, eccetera. Ecco, si è partiti con il patrimonio dell'emeroteca a premio Ischia e lo si è mostrato alle giovani generazioni. Sì, Casamicci ha sempre avuto le biblioteche che nascono sull'isola Ischia a Casamicci, e quindi è giusto che anche l'embroteca Valentino nasce a Casamicci, perché Casamicci era il centro della storia e la storia, come sappiamo, si deve anche riscrivere, cioè si riscrive ogni giorno.